Così killer ancora ignoti hanno ucciso l'altro ieri sera alla periferia di Palagiano il detenuto in semi libertà Cosimo Orlando di 43 anni, la sua compagna Carla Maria Fornari di 30 e il figlio più piccolo di lei, Domenico, di appena due anni e mezzo che l'uomo teneva casualmente in braccio. Una gragnola di proiettili alla quale sono sfuggiti i due fratellini del piccolo di otto e sei anni che viaggiavano sui sedili posteriori della matiz rossa e che quando hanno udito quei rumori sordi e visto quel sangue hanno pensato ad un incidente stradale. Non si sono accorti di nulla, racconta chi gli sta vicino, non hanno visto niente né capito cosa stesse accadendo. Poi hanno visto la loro mamma piena di sangue. Di fronte ad un agguato così violento e ad una morte come quella di Domenico, lo Stato non può rimanere inerme. Matteo Renzi ha subito chiamato il prefetto di Taranto per informarsi dell'accaduto ma soprattutto per esprimere il proprio atroce dolore da padre prima ancora che da presidente del Consiglio per la morte del bimbo. E il ministro Angelino Alfano ha già inviato in Puglia 60 tra poliziotti e carabinieri con il duplice obiettivo di avere un maggior controllo del territorio e dare un impulso alle indagini. Di ritorno dagli Stati Uniti il titolare del Viminale sarà venerdì a Taranto per presiedere il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale parteciperanno i vertici delle forze dell'Ordine e i magistrati impegnati nelle indagini. Gli assassini si sono fermati solo quando l'auto delle vittime è rimasta di traverso sulla carreggiata, segno che la missione omicida era compiuta. 13 bossoli ritrovati dagli investigatori, la maggior parte dei quali addosso ai due adulti. Sarà comunque l'autopsia in programma domani a chiarire meglio la dinamica dell'agguato. In ogni caso anche i primi automobilisti di passaggio, qualche attimo più tardi, hanno pensato ad un incidente stradale ma poi c'è stato chi guardando bene attraverso quei finestrini infranti ha capito tutto e ha dato l'allarme ai carabinieri. Questa è la dinamica ricostruita in una giornata convulsa dagli investigatori che hanno ascoltato decine di persone nella caserma dell'arma di Massafra. Un triplice delitto sulla cui matrice ci sono molte cose da chiarire. Potrebbe essersi trattato della vendetta nei confronti di Orlando che stava scontando una condanna per duplice omicidio del 98. Oppure una punizione decisa dal clan rivale per aver tentato di riprendere il controllo dei traffici di droga approfittando della semilibertà concessagli da alcuni mesi. Non viene esclusa neanche la pista che porta la compagna di Orlando anche grazie alla sua testimonianza. Infatti gli assassini di suo marito Domenico Petruzzelli sono stati condannati in primo grado all'ergastolo. Qualcuno potrebbe aver dunque voluto punire proprio quella testimonianza. Qualunque sia la motivazione, di certo c'è un paese caduto nello sconforto e nel dolore muto di chi teme che la criminalità della zona sia tornata a scatenarsi. Dolore e sconforto che hanno pervaso tutti quelli che conoscevano Domenico e che conoscevano i due fratellini ora nelle mani di parenti che avranno il pesante compito di far dimenticare loro qualcosa di indimenticabile.